L'attenzione alla sofferenza, alle carceri, la capacità che dobbiamo mettere in campo per l'integrazione dei detenuti perché si lavora bene se oltre alla pena, che naturalmente deve essere fatta. Poi abbiamo la capacità come istituzioni di insegnare a chi sta dentro un carcere un mestiere perché se poi esce dal carcere quel mestiere può essere anche un'occasione di occupazione. Tra l'altro il mondo dell'associazionismo, la manzarda che opera nel carcere di Poggio Reale, il mondo della cooperazione sociale ci ha insegnato che con loro si possono raggiungere obiettivi interessanti. Qui con questa sperimentazione della ceramica, se non erro, lavorano intorno ai 15 detenuti.